Continuano a tenere banco i lavori fatti e quelli ancora da fare per la riapertura della piscina comunale di Isernia. Dopo l'annuncio dell'ultimazione degli interventi da parte del commissario Saladino, l'assessore Matticoli ha troncato i facili entusiasmi. La gestione commissariale ha fatto bene la sua parte, ha detto, ma per chiudere il discorso occorrono alzi 300.000 euro che non sono spiccioli. E proprio questa cifra ha sollevato una serie di dubbi. Non a caso il Partito Comunista dei Lavoratori, sempre vigile sugli appalti pubblici, chiede che si faccia chiarezza, che si accertino eventuali irresponsabilità. I costi, ha detto il coordinatore Tiziano Di Clemente, non possono e non devono gravare sulle spalle della collettività. Adesso si dice che ci vogliono 300.000 euro per metterla a posto, per renderla funzionale, ma allora quando è stato fatto l'appalto vuol dire che o il progetto era sbagliato oppure se il progetto non era sbagliato vuol dire che i fondi utilizzati non si sa che fine hanno fatto. Quindi chiediamo intanto di accertare le responsabilità, che non devono ricadere sulla collettività questi 300.000 euro. Poi chiediamo comunque che vengano messe in atto immediatamente tutte quelle piccole cose che mancavano, cioè la pavimentazione del fondo della piscina e l'impianto che serviva alla climatizzazione della struttura. Poi se si parla di rifacimento del tetto vuol dire che il tetto è stato fatto male e quindi chi l'ha fatto male lo deve riparare, non lo deve riparare la collettività. Il Partito Comunista dei Lavoratori esprime perplessità anche sull'idea del project financing. Una gestione privata della struttura finirebbe infatti per escludere le fasce meno abbienti. La gestione privata secondo noi è sempre un po' pericolosa perché intanto c'è il guadagno del privato e poi noi chiediamo che la gestione rimanga pubblica anche perché vogliamo che le famiglie meno abbienti di Serna possano partecipare, possano accedere al servizio della piscina comunale anche se non hanno diciamo le condizioni economiche e questo qua come sappiamo il privato non lo può fare perché il privato fa un discorso di guadagno.